Siiii Eh vai, funge tutto Ti sento piano, bro Ah, si, aspetta, alzo il microfono Tutto tutto Meglio? Molto meglio Forse non ho mai sentito nessuno così da quello gioco Eh vabbè, compa, minchia C'ho un microfono, deve fare qualcosa Se no, non lo butto, sto bastardo Deve microfonare Deve microfonare, cazzo Aspetta Che classe usi? E ci sono delle classi? Ah, si, quella No, non lo so che E cos'è la classe? Allora, br coppie Eh sì, compa, ma ancora sono un merda C'ho visto, non gli posso personalizzare quasi un cazzo Oh shit C'è proprio quelle base, col collimatore Dobbiamo riuscire a prendere due a loadout Allora così ti droppo le mie armi Sì, esatto Quindi ho delle mie armi e le mie usi le mie Quindi ho delle armi decenti Che bello Che bello È da tanto che ne provo sta sensazione Lascia aperte, ieri stavo facendo una singola Ci sono rimasto malissimo Minchia, stavo sparando a questo qua sul quad L'ho ucciso, ma il quad mi ha investito e sono morto anch'io Eh, porca credo che è successo l'altro giorno La rabbia Quante bestemmia, non mi farò Allora, prima non succedeva Perché prima quando lo uccidevi Che fosse una macchina al quad Si fermava di più estantaneamente, capito? Ah Poi hanno pizzato sta cosa, mamma mia Ma ecco così, mio, mi guardavo che... Io perché c'ho un'arma rosa C'ho un'arma rosa Che bella, hai risposta Sì, è bellissima Vengo a uccidere te, tanto perché mi stai sul cazzo O non ti posso uccidere perché è brutto sto gioco No, mi hanno rubato la kill tua Che brutta cosa Non ti puoi uccidere Ma io ti voglio uccidere Tu sai che te lo meriti Ah, no, madonna, che cerchio di merita Wow, questo cerchio è abbastanza semi Quasi come una pianta, è semi Allora, il cerchio è abbastanza schifato Quindi Da escludere ci sono militari Proprio da escludere completamente Oh, sei il capo squadra No Dobbiamo stare attenti Facciamo... Una station è pericolosa Eh, sì, lo penso anch'io, effettivamente Andiamo qua, dove ho fingato io E... Alla, i porti Congratto E poi ci spostiamo verso il superfair Papo Anzi scendi al superfair Scendiamo qua In movimento Elimina tutti i bersagli nell'area operativa Nemico in discesa nell'area operativa Nelico in discesa Cazzo Oh, ma che cosa? No, vabbè, vabbè Vabbè, ok Dio No, oh, cheater, cheater No, diciotto Vabbè Questo era palesemente cheater Perché? Che è successo? No, non c'è Mi si è spostata la visuale Tipo di 180 gradi E mi ha ganggiato in testa Ha fatto bene Lui è sì che ho in pro No, no, sono pro Si dice super pro Non si dice cheater Cosa? Si dice super pro Non si dice cheater Edda Mi immagino Il video che non fa Forse l'ha registrata Aspettami Qua ti posso... Ok, sulla destra Sinistra tua Sinistra o destra? Sinistra, sinistra No, perché io guardavo dal mio punto di vista Quindi non veniva destra Se perdi Sei fuori gioco Tocca a te, soldato Occupati di quello stronzo Cioè, ma veramente Cioè, non posso pensare a come ho ucciso quello Dove minchia è quest'altro? Ai Ah, l'ho visto No, bastardo Porca troia Un coglione Niente, al posto Sono deficiente È colpa mia Ti sento piano, compa? Eh, si No, amica Pocco giuda Sfottuna Che è succeduto? Hanno preso il contratto proprio ora Sono senza armi Bene Almeno è una barriera Hanno preso il contratto davanti a me 3-2-2 Con full di armi Di nuovo Ma perché trovo stermi dal cazzo? Gesù Del cazzo di Gesù, eh? Ottimo Ma in teoria non dovrebbe essere tipo super potente? O è scarso perché effettivamente non l'ha mai usato? No, i pompa in questo gioco fanno schifo Non li prendere mai No, pensavo al cazzo di Gesù più che altro Ah, quello sì Eh, quello sarà potentissimo In calanciamissima Ma che cosa trovo? RPG Bomba Un'altra bomba, guarda Esatto Puoi sparare alle persone vicino Vediamo, quei due erano? Secondo me erano gay Erano tipo verso qua Perché un po' di sensazioni amorose le avevano Ninja per quanto non le ho presi Ah, ok, perché non ho visto nessuno Pensavo non avesse un senso troppo logico Però ok Ha perso tempo Appena li ho visti Ho sparato subito Ha perso tempo Da arrivare le tue pigi Eh Dannato teletrasporto Che ancora non l'hanno inventato Ah, ma io ti posso arrestare, non mi hai accolto Ma quando le ho fatti 5.000? Boh Che ancora dovevo capire Bella Ma questi soldi ho trovato Bella da pistola Pingami Pingami in un shop Come? Ah, così te li pingo Ok E mo' E mo' sto cazzo Non serve a niente Sto pepiso Minchia Ma vero non serve a niente Compa' Ero contro uno Mi ha sparato un RPG in bocca Non sono morto E l'ho massacrato E' inutile Ma perché quando è successo ieri Stavamo facendo un pezzetto Emilio Tale sopra Viene atterrato da uno E lo aveva shottato già Ah beh già questo pepiso E lo aveva già shottato, no? Sì L'ho shottato anch'io Taggo Gli sparono a rapido L'emertichetta la prendo in testa E prima di atterrarlo Questo con Con il coltello da lancio Mi ha one shottato Cioè Io avevo tre scudi Compa' Il coltello da lancio E' sempre l'arma più forte del gioco Sì ma non ti può one shottare così Invece lui può Non deve one shottarti così Dispettato Uscire da salto qui Ah c'è più una cassa Non mi piace Ho trovato Ho trovato Sì sono un po' strabbi Con questi puntini Sono fatti gruppo leggeri No sono tutti abbastanza lontani Eh dai andiamoci a fare un contratto Allora così vediamo Per un po' dovrebbero lanciare un loadout Possiamo provare ad andare a fare L'unico Verbi a qualcuno Ma qua c'è uno scudino Che mi posso scopare Vediamo vediamo un po' Sì No ma un po' Una ce l'ho Più che a Mi servono Mi servono munizioni Perché ho solo un colpo Tipo Eh prenditi questa che c'è Mitragliettrice leggera qui Ah Interessi Buono Fucire di precisione Ok posso levarmi il metraglio Allora La safe Dobbiamo andare in safe Non ti preoccupare Non ti preoccupare Ah minchia Questo è il primo Cerchio ancora Sì Eh dobbiamo correre Perché questo è veloce Io ci volevo un cardio Cardio rilevatore Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo Là c'è un cadavere Quindi Quindi Non c'è Non c'è se è mosso Forse non è un cadavere Vai finire Per l'ancio P Правè non c'è Grazie Mi faccio Non c'è Una Ma io saremo Io venticorpione Mi fa attenzione Ok l'ala c'è uno un scondito resta nascosto e questo appena si avvicina ce lo facciamo quante persone ci sono deve essere l'amico sì l'avevo visto proprio là dentro ovvi alla la è cazzo l'ho visto uscire è sempre verso di là andato è andato indietro ma che cazzo mi fai così ok salito non sul tetto di vieni vieni a prendere vieni a prenderlo d'alto ti prendi questa cassa sacca pure così ti puoi prendere ora c'è la safe non ti preoccupare ora inizia a essere più lenta vediamo se questo sale sul tetto muove ora l'hanno sparato qua è io ho rotto io ho rotto uno scudo ma cazzo si non c'è il cecchino per caso è sì però ci dovremmo anche scappare da qua me la puoi droppare non ti preoccupare come cazzo si quali sono qua ah cazzo scappa 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 un vabbè tanto non ci mira più però eh sì pure lui mi sa che sta fuggendo forte eh mi serviva se avesse avuto altre munizioni indiano l'ho lisciato l'ho preso ma l'ho preso al busto l'avessi preso in testa sarebbe morto attento che questi potrebbero essere lì infatti stanno crossando da lì ok e un attimo qua se hai munizioni di cecchino troppa me le devo capire come assalto no non me le dà sì ma non me le dà cioè io ne ho 20 ne ho 20 sul mio coso però non me li dà da droppare ah se ce l'hai equipaggiate non me le dà ah ok fuggi fuggi con pace della cosa attento che qua ci sarà gente sulla sinistra si stanno sparando ok caudi caudi attenzione un team nemico vi sta dando la caccia cazzo ok non ci mi cecchino ma quanto cazzo si chiude sta safe di merda eh vatica ti picchia quanto cazzo sparano e allora dovremmo mi dà il livello di minaccia 1 devo iniziare a pensare a cosa fa come? c'hai un livello di minaccia 1 per ora quindi è buono si si ovviamente finchè minaccia 1 è niente noi ci dobbiamo preoccupare a che iniziassero 2 e poi 3 va bene molti prendono la taglia ma non la prendono per per farla perchè se qualcun altro uccide il tuo bersaglio taglia ti dai soldi lo stesso ma c'è gente ah si contro qualcuno sta fightando non è scappato è scappato si ok ma qua stanno sicuro fightando qua dentro lì ok me lo dà 42 metri a est ah cazzo ce la seguì mi lo dà più questo stia scappando ok adesso me lo dà in questa direzione cazzo è sopra ma ma eh cazzo ma si ma A terra uno. No, 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 il gas, cazzo. Eh, per quello ti dicevo. Oh, questo è gas, è sempre nel momento sbagliato. Cazzo, gas di merda, devo rientrarci per uscire. Ma vabbè, non è. Atterra l'altro. E' atterrati tutti e due che fai gli agi. Ah, cazzo. Dove cazzo è? Non lo so. Qua è, da me. Eh, ti sta mirando, ti sta mirando. Bravissimo. Mi ha inventato, però, per. Lutatelo, lutatelo. Cioè, scupa gli altri. Il grau buono, eh. Minca per buono, prendi, è quello che uso io. Allora, mi ho fatto da gioco. Vabbè. Torniti questo qua, guarda. Lo scudo. Lutati, questo sensore che batti per l'altro. Ah, ok. Allora, dobbiamo riuscire a trovare uno shop. C'è qualcuno. Perché non abbiamo coraggio. Qui c'è un venditore, se ferme. Dobbiamo riuscire ad andare lì. Il nemico ha perso le vostre trecce. Mi chiamo, ora crea safe, cioè compà. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Dai inizia a essere sempre più lento. Arriva il gas. Ah, ok. Attento sempre. Stanno sparando dove c'è la shop, eh. Attento sempre a quelli sul tetto di downtown che poco fa... ...avete trovato una corazza, quantomeno. Qua ci sono due. Ok, aspetta, aspetta. L'hai visti proprio in pieno? Sì, sì. Quale sono? Eh, si sono spostati verso... ...versò la zona safe. Verso la safe. Beh. Usa... ...un intanto usa... Qua sono... ...a fettacolo. No. Ok, l'ho craccato, l'ho craccato, l'ho craccato. Dove cazzo è? ...se vieni qua, resti subito lo finiamo. Ci sono. Uno stanno pushando, guarda, stanno pushando. Eh, non posso più interrompere. No, se ne stavano andato uno. Ah, sì, sulla sinistra, l'abbare. No, ragazzo. Ho colpito, oh. Dove sapere. Che cazzo è successo? Ragazzi. Perché mi sta laggando fortissimo? Perché? Che cazzo ti lagg mi sto facendo? Compà, non sto capendo un cazzo. Una volta ha vinto il nemico. Compà, non ho capito più un cazzo. Ma ha laggato una merda. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma tu pure sei morto. Quando l'ho visto, l'ho smirato. Perché l'ho smirato, siccome non so per quale motivo lui mi ha... ...bannato, infatti. Che hai detto poi, dopo abbandonato il party? Ma è la mia connessione, che va una merda. Penso a sto punto. C'era Saibo in the team. Cioè, sì, o... Entri nel party di Saibo? Entro nel party di Saibo. Non mi riuno offline, non mi sa, Saibo. Ah, yai yai. Ah, yai yai. Ah, ok. Niente, sono entrato, scherzavo. Ma c'è Saibo, vuoi? Oh, Saibo. In casa è buoni. Aspetta che ancora avvi di mettere un microfono. Avvi un microfono nuovo, non sapevo funzioni. Sicuro. Saibo. Se ci sei, batti un colpo. Beh, vabbè, io non basta. Oì, raga. Inchia vivo, eh. No, no, aspetta, è uscito, è uscito, è uscito. Per chi? Sta entrando... Cuccecchio. Piripiri. Piripiri. Amico salvo. Amico di salvo. Ah, eh, eh, stai giocando da PC e... Io sì. Ah, ok, allora dobbiamo uscire dal... Hello, boy. Ciao, spieghi nel tuo artigli... Nel tuo... Vabbè, Totò, mi carri per favore. Mi si dia. Alessandro è scarso, è il nabbo. Carriami tu. Non è vero. Stai zitto, è il nabbo di merda. C'è Totò che mi carri. Vai, a caldo. Minchia, a mio morisci. Io c'ho da banna a mia madre, priata, e mio padre col loro pinguino accanto che si stanno rifiscando nella mia stanza che muoio di caldo, bastardi. E me lo sbattono pure in faccia. Il cazzo, intendo, non il loro priarsi. Gradi... Gradi fa freddo, eh? Ehi, pochissimo. Che è successo? Mi è morto tutto, non lo so. Vabbè. Riscaldatevi per bene. Tra poco si entra in azione. Caccio a Totò cannicarria. Mira, se il viato mega si incazzava, cacca. Ah, ma perché non muore, sto tipo? Perché i primi secondi che inizia la partita non puoi fare danni. Che palle. Sì, anche le contano due a cinque, non ne potrete più niente. Military! Che vuole fare la military? Io non vedo neanche ancora l'aereo. Di pazzo, proprio. Però non vedo mai l'aereo. Hai fatto un partitone al military. Si è baggato? Io non vedo l'aereo. Ok, lo vedo. Ok, ok, ok. Sicuri? Se non vi piace, cambiamo. Ma è oltre, va. Ma lo so, come volete? La prima, la prima. Tanto sale il caposquadra. Oh, sto laggando. Vabbè. Vai, vai. Sto laggando... Casino. Vediamo quante anime stanno scendendo. Niii! E' normale, dai. Vediamo se riesco a stare... Lo scavino. Io provo al solito. Il movimento. Vado, ma c'è già gente per terra. Ma che cazzo? Oh, da me è vuoto. Per me non ci sono armi. No, dai! Vengilo! Asciuto. Bene gente, diamoci la... No, 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 venga, dica... Ma da... Ok, due a scherzo, fa una piccola seguita. No, sarà un pro-dinto. Indurale ha ucciso. Indurale ha ucciso. Indurale ha ucciso. C'è piccola massacrata in gym, mi ha fatto un pro-dinto. In un compagno nel culo. In un'altra culo. Se sopravvive, può tornare in azione. In un cala è il corpo. C'è uno dietro con il veicolo. Ma c'è l'altro! Cazzo! Sì, sì, sì. Che bello togliere le piede in dosso. Guarda come gli fa l'acqua. Tocca a me mua? Guarda come gli fare l'acqua. ma un gioco iniziano giallo scuola guai ma dai ma che ciò non ho pensato prima io ho pensato prima non so dove andare provare subito subito qua dai preparati a combattere sei il prossimo ma flasciato non ci credo ma vicetti ma che cosa tutti i morti sono l'ultima speranza del party guadagnati la libertà soldato ah vinto io non capisco ve l'ho detto che ci deve per gattiare tutto adoro di ogni mio morta no no solo tutto e ti fregare tutti i colpi dai sniper stai senza ma tu perruccasi ah ma questo è lì che mi piace ma il coltello tu ma questo è tu delle pestellate io invece due colpi di cazzo che mi ho spiegato ah ma perché tu sei uno sfigato perché ho il coltello da lancio forse sì forse perché ho il coltello da lancio ma la devo mettere mamma mia che bella cazzo qua cazzo 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 non prendere l'ultima casa non prendere l'ultima casa io non sto prendendo niente io non mi muovo mi faccio i cazzi miei che è meglio ci si trova un'ora per sterzare perché ci sta così tanto ma perché hai 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 il coltello da te amo no scendo io e scendo io ma perché hai il coltello così così ciao scende excel astra non prende un'arma bisogno di nuovo il klaxon oh c'è gente da me ritorna indietro prendi la cassa prendi la cassa prendo la cassa vabbè non puoi fare un gioconno l'obiettivo principale ha raggiunto ma l'altro da scendere i soldi trovate però è dura però lo shop lì è duro è bellissimo questo grado basta però mi sta perdendo si si no mi stanca hanno chiamato l'ho dato la sorte animale hai visto? ah hai visto? ho visto ho visto vabbè noi ditemi dove andare ho capito vado a luttare lì troppo arrivo arrivo vabbè ma mi hanno confermato una kill mi hanno confermato forse quella che ho fatto alla military base quello che ho fatto ehm fossimo proprio a lotare ma hai lotato mi ho lasciato la mp7 una cassa verso lì c'è della gente verso lì una cosa ma nelle impostazioni si può fare qualche modifica per prendere tutto da terra tenendo premuto quadrato perché ogni volta devo premere per ogni singola cosa ehm no 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 ma lo devo tenere premuto per prendere una cosa mi pare c'era possibile per raccogliere equipaggiamento in automatico o sbaglio cioè non è che lo clicco una volta e me ne raccoglie fanno cliccare solo una volta ma solo una volta ok eh no io devo fare questo perché ogni volta devo tenere premuto per ogni singola cosa sì ma non ti devi dimenticare che quando sei su un veicolo oh qua ce n'è uno l'amico l'amico è atterrato dietro l'amico è atterrato dietro l'amico è atterrato dietro oh mi sparano da dietro da qua due sono cazzo ma vabbè eh ce n'è una filistone ma è all'elice ma vabbè la mia ma c'era una ah c'era una ah c'era una ah c'era una c'era cazzo ma perchè mi ha abbandonato la partita ah siamo morti tutti ok no penso c'era uscito non osservano male ma di ciò che vinciamo questa che non posso fare l'ultimo da con noi non sia da allenare dicono tutte così tutte tutte ovviamente tutte non chiamo con quel silenziatore che sembra un dito gigante è bellissimo lo vedi che sempre pensieri malsani a me sarebbe piaciuto il silenziatore così sul fucile di precisione perché effettivamente ci sta brutto il silenziatore piccolo vabbè tu sei abituato ad averlo piccolo star ma non ha senso completamente il poden si non si capisce il cazzo è questo silenzio no ma è da tanto che non lo uso no questo qua compa lo usi per fare gli spari tipo wanted che curva il proiettile sto caricatore sto silenziatore che qua alla fine è diventato un video da gli spari riscaldatevi per bene tra poco si entra in azione tutto comunque la usi è estrola riposito questo è stato molto molto questo è stato molto meglio è stato ma può mai che non volta il caricatore quando sto prendendo un bel calcolo si tutti così dicono scusa tutte così dicono I can fly Ai 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 NOPE Non vai aspetta no Ci siamo uccisi a vicenda Soldato nemico in arrivo Che cazzo di non vai No io gli ho tirato il coltello e lui mi ha sparato Da Uzi Sì ma anche se il coltello da mangio non mi dava questo modo Però si fa un po' cagare Che dite vi proviamo di nuovo qua? Allora Stavolta non dovrebbe esserci che cosa Potremmo fare... Qua Siete d'accordo però Atterrare in queste zone di Quarry Così non ci dobbiamo spostare per la safe se riusciamo a vincere i pipes Eh vai 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 Minchia Coppa ha appena detto Quarry nella mia mente Le immagini del Vietnam di Mv2 Eh Quarry, Quarry proviamo Quarry Ti sento qua dove? Verso qua Più o meno vivo No ti sento pienissimo Eh che palle Un microfono al massimo i sessi Vediamo come va Cosa Cosa La punto è benissimo Dobbiamo prendere subito il reload Anche l'altro ragazzo lo sentiamo Cosa Carlo? Il reload dobbiamo prenderlo subito Ci ha morti per colpa che non avevamo reload Allora c'è gente bassa Ah si è atterrato Uno ti spara Ti sta abbraccando Ok se ne è... si è allontanato E là? Mi devo fermare però mi devo fermare Ok ok Bene gente, diamoci da fare Abbiamo gente ai pingue rossi Tantanissimo Ma avessi una cazzo di arma decente Oh da me! Oh Da sal Sto arrivando? Uno fatto Non ho scelto di stare? Non ho colpi di un cazzo Occhio Carlo deve essere lì Eh sopra era uno Mi sono il telefono Oh 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 dietro dietro Ah ma no 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 C'è se ti andrà di un'altra volta rispetto al ping Broco Craccato però, craccato Wineshot Buono 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 Pss Qua? No Eh ben no matto E che palle E' sotto uno Lo vedo sotto No venga noi sono qua fuori Verso qua? Vedo un movimento Non so che fine ha fatto Sai che è scappato? Eh ha sparuto Si è scappato da qua mi sa Emico è stato qui Otto E c'è dove sono atterrato io e aveva tutto da lotare Dobbiamo capire dove è andato sto stronzo Non prendono la vita A chi? Ti saranno scudi Carlo? Mmm Pare di sei però Ho preso un contratto nel dubbio Mi hai fatto cagare addosso Oh no Prima di anima gli amici No non abbiamo No No Questo Si sta spiegando Big money per ora Sparato lui Si ha sparato uno qua Alpine verde Andiamo 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 Pusha pusha Si può essere Un nemico in discesa lo vedo Si sopra il tetto è andato Se lo spider è sceso E' sceso Adesso del ping verde molto più a destra Attenzione devono essere qua Si passa lo shop su per giù La la ha visto la nuova Si C'è la Proviamo lo shop C'erma di merda Attacca il grappolo Ma che cazzo Ma come? Vieni dentro Ale Cazzo Ale vieni vieni dentro No che ci attiva con tre corazze Io non ho idea con due colpi Come che mi hanno buttato giù Sono due occhio Uno l'ho fatta bro Sono qua sono qua Te l'ho finito? L'ho fatto col coltellino L'ho preso col coltellino A terra Ne manca uno bro Uno solo Bravo Ah c'è un altro Ho visto un movimento là sotto Vai da 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 Arrestatemi Restatemi subito Vieni 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 Ma ti copro E' uno eh l'ho craccato bro L'ho craccato eh Nooo Sono in due Sono in due Nooo Che mi sono distratto un attimo Perché ho sentito passi dietro di me Stai iniziando uno scopo Stai iniziando uno scopo Stiamo facendo una scopo Scopo Io l'ho craccato Più di quello No quello craccato l'ho fatto quello Ah dici l'altro L'ultimo Erano due però Se vinci questo scopo Se vinci questo scontro Si Sarà uno o Cia Monica ci sono io qua nel gulaggo Ti guardo Ti guardo Tocca a te soldato Occupati di quello Tutto a tua sinistra Tutto a tua sinistra Mi sa Non lo vedo a tua destra A tua destra A tua destra A tua destra Va bene Bravo Fk Fk Ale E niente Fk Dao Trovo io Prendi la cassa bro Ti fai i soldi Compaio caduto Tornerà alla base Ho sentito il rumore Minchia lanciagranate Ma servo a un cazzo e lanciagranate E' devastante Perfetto Io lanciagranate si Va bene Cominciamo a A tirare le patate addosso alla gente Obiettivi aggiornati Buone di mani Buone di mani Il minchia il fallo Qualcuno di me Non c'è Mi ha mangiato ma Mi ha fatto HS Due colpi Mi ha dato un colpo in faccia No io ho sentito il rumore della granata Ehm Potete restare uno Mi sono Girato nella direzione Se prendete la cassa Avete Potete restarci tutti due Si si Vengate lo shop Vi conviene questo Si si Vi conviene quello Ah senza macchina bro Che ti sentono Ci sono gli avvoltoi col c4 E lanciagranati Se non c'hai un troppi No no io ho pochi ne ho Non ne ho troppi Non prende Nooo Dovevi prendere la cassa Fa niente Fa niente Fa niente Ci resta tutti due Oh Avete persone Mi sa Persone 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 dietro di te È un full team Devono salire dalle No Perché sei sceso? Perché sono sceso? Ah cazzo C'è l'altro dietro No no Due li ho atterrati Due li ho atterrati bro C'è l'ultimo Se no Lo poteva fare quello L'hanno restato uno? Si ok Il lanciagranati è devastante Noi siamo d'accordo Si è devastante il lanciagranati Deve restare uno Se resti uno a fuoco Magari ci dà Gli diamo una mano Si resta uno di loro due Io sono Navo Bravo Ma io se resta Vicarlo forse Ehm Vado provo a load out Anche se Vado load out Si 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 Una pazzia Quelli saranno sul tetto già E sono qua uno Eccolo uno Ah grande Bravo Ok Minchia No no 8 9 Ne ha 10 Colpi leggeri ne hai? Colpi leggeri ne hai? Vieni vieni Ehm Mitraietrice leggera si Occhio 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 Le togli ti togli No pesanti Leggeri Eh Ehm Si Te la lasciati Oh no A terra? Ehm Sempre lo stesso Continuo a restare Sì è sempre lo stesso dai Io volevo indietro Buon tardi Ehm Qua non c'è un cazzo Dobbiamo una macchina Quale c'è per la sopra che mira eh occhio Io ritornerei A dam Anche se A quorri Qua? Non ho paura di uscire la scena Che ancora io le vorrei seguire Che dici Toto? Non so se devi andare a quorri Oppure Ah no dici la A quorri c'è gente Si no 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 mi piace meglio la Andiamo allo shop Allè A quorri Qua vai No colpisce ecco Vabbè io lo puoi tirare in testa appena finisci E la lascio ai cingli La zona sicura Tanto c'avete i colpi la davanti eh Nella casetta Con la fianco a Ah vero si A con Ai vigili Era quella la casa Si quella lì Secondo qua ancora c'è quello No no Ressata Ressata Vi conviene proprio andarvele Oh grazie Ah bello Certo Ho tutto rotato Prendi le impulsioni Senti una cassa Senti una cassa Ah non hai rotato a minchia però Ok abbiamo i soldi Lasci qualcosina o vado a rianimare? Si aspetta Sono andato insieme bro Fai da solo o ci puoi rischiare di lasciare il pacco? Eh lo sai? No, non vedo No Ho marcato una stazione del qui Qui ci sono salvi Correbbero munizioni Che è la cassa di munizioni là dentro L'hai presa la cassa di munizioni? No, dov'era? All'edificio verde, non so però se È una cassa grossa Non so se l'hai presente Quelle è tipo guerra terrestre Ah ok, sì Che palla è stata gli uccioli Ma va, sono soltanto anni Saranno a cuorli sicuro Sì Vabbè Fuori da lo sciocco Ehm Ma dov'è? Ma dov'è? Sette mica, mille e sette bevi Ma dov'è? Dove mi sparano? Come si sparano? Io provo a andare al bunker Sparano? Mi sparano da guardare Mi sparano da guardare Mi sparano da guardare Mi sparano da guardare Mi attaccano da guardare Mi attaccano da guardare Mi attaccano da guardare No, viciotti sono un team di sniper Che stai? Dove, dove? Mi devi dire dove? Ehm Al nord ovest Ma sono tre Tutti e tre che sparano Minchia Oh, neanche il tempo di uscire Neanche il tempo di uscire Ascolto il bombardamento Non venire, non venire, non venire Il bombardamento Cazzo Percocchino Bastardo Avevo corazze Prendetela Oh, non mi hanno dato Neanche il tempo di uscire Ma fuggi Perchè erano in premio No, ma non sapevano dov'ero Che non Che botte di culo Ma mi sparavano C'era uno che mi sparava da lontano Già, guarda Mi stanno sciattando già Mi hanno lisciato Dove sono? Ci sono spostati Ci sono spostati a sinistra, Ale C'è un bordello a sinistra Avete gente verso qua? Sì, ma questi Minchia, un team full Ma come si muovono? Boh, da ubriachi Già ti hanno visto Quando ti conviene Dov'erogli aspettali Quando ti fai entrare Esci ti prende Cazzo E da lì ti prende pure Bastardo Bocchio di merda Ah no, sono bravi È inutile provare È che sono in quattro Perché se fosse uno di uno Me lo farei sicuro È inutile fare sto fight Attualmente sì Sì, occhio che pusheranno Cioè è meglio se si sminchiano prima con qualcun altro È corazze Eh sì, due, vieni Ma vai, lasciamo tranquillamente Corazza qui Oh, la cazzo, venì Ma mi conviene comprare corazze Ora allo shop Minchia, ma dove l'ho shop? Non c'è uno shop all'Under Ma però c'è un drone C'è un drone Ma che voglia di vedere Un drone perché spinta sulla mappa? Oddio, perché adesso appunto è spinta sulla mappa Ah Infatti non devo farci avvistare perché se la sanno dove siamo Eh, allora non so se conviene prendere Quella cosa Se no potete fare una cosa Prendete la macchina Prendete il contratto Esatto, quello che voglio fare Io ma con questa macchina è troppo Eeeh E fate Il sistema trofi che vuoi trovare Sistema trofi Da mettere sulla macchina Così non ci va bene Attenzione Un drone è in mani Tanto ci ha visto Ah, dai, andate in macchina è corretto Doviamo trovare un sistema trofi Io scommetto che ci ammazzano colci qua Oh, gente, davanti a voi Non andate in quella direzione Non andate verso il loadout Cappada, scappada Eh, sempre a voi Basta a tutti i plani Si, ormai ci lo andano con boi Non andate verso il maio Non andate verso il maio E' un'aspetto a male, un'aspetto a male Oh, mister In chi è? La safe LOL Pietra di merda Mi dovrei offendere in questo momento Occhio a qualche ci sarà gente Fermiamo qua bro Scendete Ah potete difendere qua Abbiamo uno shop qua Comprate corazze Cose Non siamo buoni bro Se no può andare Ale che non ha la taglia Vai tieni Ale 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 Qui ci sono soldi Prova ad andare allo shop Non devi andare L'altro c'è l'altro Cazzo Non li ho sentiti bro Neanche io Ah tranquillo tranquillo Ah ti ha fatto No erano Erano tre Non li ho sentiti Ah ho fatto casino Qui certi però l'ultima posso fare Una tattica Giusta Sempre così Sempre così Sempre l'ultima Sì perché voglio fare una discreta E a Corri non la stavamo giocando male Ma Sono scesi troppo separati Io sono sceso in un punto No no Stavo facendo buon punteggio Che a Corri mi hanno atterrato con Cioè due colpi Mi hanno messo giù Comunque Quei settimini di prima Erano bravi per carità Però un po' mi puzzavano Allora erano bravi ma erano sempre quattro Quindi Questa cosa che mi hai detto che non sapevano dove eri e ti hanno shottato Cioè non Sono uscito In questione di un secondo Due secondi Mi buttate anche bebro Fidati mi puzzavano un sacco No Capito Cioè non mi davano neanche il tempo di mirare Che appena Esatto Chiese L'altro L'altro giorno Berri ha fatto un video in cui parlava di C-Pers Che Sì Ha fatto un video in cui parlava di C-Pers Che praticamente Annoiai molto attivabili e disattivabili Quindi tu rispetti e non E non te ne puoi rendere bene conto Questo lo vedi molto con il crossplay eh Sì tantissimo Poi Ci sono anche dei lineback che praticamente Si attivano sulla corta distanza C'è tanto Quindi magari da lontano ti sbagliano qualche tiro Quindi tu magari la smetti di spettarli capito Come quello che mi ha ucciso stunnato Eh bravo Purtroppo lo fa schifo I C-Pers Secondo me sono la rollina di questo gioco Tipo Combat Arms che è proprio 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 Combat Arms Madonna Robba vecchia Bro E' pieno di C-Pers Non si può giocare più Completamente Ma il Combat Arms è stato sempre Pieno di C-Pers Adesso si fa sul serio Sì ma ce n'era un altro Con tu giocata a Piero Farini Che era proprio peggio E' là come che sei citerso per forza Se non citero per forza Se non potevi non impiare Fare mezzagilli Non è l'interno Allora abbiamo una bellissima 6 Andiamo Battle Royale Battle Royale Cerchiamo di scendere tutti Facciamo più Dove? Non lo so sinceramente C'è l'imbarazzo della scelta Andiamo la lentina? Dove? Tutti insieme Tutti la lenta Tutti la lenta Tutti insieme Non conviene atterrare Sull'obiettivo comunque Allora Totò lo metteranno Su Juggernaut domani Ma no non c'è nessuno Puoi prenderlo Non vedo nessuno Io sono atterrato al Pingo Viola Ma lo metteranno in Warzone Scusami Sì Cosa? Cosa? Juggernaut Che ignorantissimo col Juggernaut Ma no Sì ma lo deputti insano Minchia ma diventa qualcosa di Se lo usi a fine partita diventa No perché ha poche corazze in più Di a fine partita disintervi Do quello che ho capito eh E poi sono visibili nella mappa Ah Eh nuca non è un problema Ma lì prendi tramite contratto forse No Li puoi comprare Ah è il troppo Ok Ah è il troppo Ok Come è che si fa? Fammi cadere l'airro Buono il M4 Non puoi comprare Sì ma questo il M4 me lo devo levare Cacchino Hai il tracolpi Sì mamma mia roba C'è gente a aeroporto Mitraglietta localizzata C'è gente a aeroporto C'è gente anche qua Ragazzi venite con me Ci prendiamo il loadout subito Ah dai prendiamo Ci sto Fucile di precisione Io ho una cassa di munizioni comunque Io pure Buono 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 Contratto completato Tutte le casse di torte trovate Questo Oh là Ah là In quello Ho marcato una stazione Di a questo Ok Sì perché ho preso l'ultima C'è un camion davanti a noi È sceso Di push Come hai più push Mi sa che ha Una terra Fatto Dove cazzo sono? Oh c'è Kino Piscina c'è Kino Mi metto Una p... Minca voglio prenderlo Da alto e venire subito Ci riesco La Vedo un movimento Ah dentro Ok Sto arrivando? Sì è dentro Sono dentro la piscina Non sopra Con la ganda No un altro No ce n'era un altro La sopra Si è mi convinto Un altro tre Niente Niente Volevo andare per me Parlo Dove sta a fare Io uno l'ho ucciso Ma io Un ben di dio Benvenuti nel Gulag Chi sopravvive e conquista la libertà Torciamo tutti Prendilo d'alto direttamente Fai sì 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 Smirato un vino E' mal fregato Noi ci siamo concentrati Troppo di spettacoli Ma io me sono concentrato su due Non avevo visto il terzo No ma insomma Lo rispediamo alla base Sta iniziando un combattimento Preparati Sei prossimo Ah Cioè Io ho lanciato la flashbang E non gli ho accettato Non uso il suo logico Prima linea Se perdi è finita Guadagnati la libertà Soldato Cazzo Boh Un po' insì Però boh Che non ci ho fatto Fida di merda Oh mi sparano Quelli da Non so da dove Penso da super sopra Oh no No forse no Possiamo ancora prenderlo da out? No scherzo No Sì sì che lo si affegli là Da là da là c'è gente là 8 Eh lo shop lì è coperto Sì Lì si muove l'aria Devono in volo L'ho sceso Mi lascia soldi L'ho craccato Minca Sono andato Non so dire L'ho finito Mi sparo un altro da destra Da là sopra Sempre là Vedo movimento Eh sì E prendiamolo da out quindi Sì è un jack in Un jack in Sì sì Veniamo da Mi è coperto Sì sono coperto qua Veditela a me Te li lascio qua No ma non ci viene Mi lascia il soldi Non ci arriva Minca Quanto No non ci arriviamo Vieni 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 ti andiamo Andiamo su raga Andiamo là In movimento Ah sì verso su Ok che a sinistra c'è la gente Sì sì A super star c'è gente Occhio Anche a sinistra Cazzo Da dietro La porca troia Da là sopra Il piccolo Non ti conviene Non ti conviene C'è quelli dalla sopra Che hanno saltato Ma sei serio Sì Corri Corri bro Eh che cazzo Eh dai Non ti ho fatto bro No vabbè tranquillo Che a palle Ma veramente C'è chi scusate Ma da quella distanza Ma non è Non avevano Cioè non penso Avesse C'è la rata se lo volete Cazzo che sfiga Però Andiamo sotto Andiamo qua sotto In movimento È dotato Io ci ho provato Ci ho provato a restarti No vabbè figurati La era Era infattibile Anzi appunto è rischiato Potevi tranquillamente andare Gente 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 Sì Terra Grande Occhio a sinistra No Allora dietro 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 Mi sa dietro Vedo un movimento O dietro o Avete il sensore 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 No Non ce l'ho No No a qua non si passa Scusate Allora sono su I passi erano su Per forza No io pure Sto gioco Non capisco mai Dove cazzo viene il suono Se sono su Occhio Rolatela In movimento Ma forse Questa è la lato resta No Soprire Qualcosa Non lo so Sarà lo terresto Ma datiti Ma nient'altro Quando l'ho finito Ah non ti ha dato No no io ho sentito Altri passi Sulla sinistra Compa Alessa sulla sinistra Ce n'è uno Che passiamo Sì ce n'è un altro Pure a destra O non è lo doubt Non pushare Bro Non pushare Ma non sto pushando Sono qua Guarda Lì c'è uno Guarda ma che ci fai là No stavo guardando C'è la gente Allo dai C'è un full team C'è un full team Lasciate Fermare Ho detto Ma lo potevi Io ho tolto appena di piastre Sono cattivo Non lo so Totò ma non hai piastre No 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 zero Tieni Andiamo dietro Andiamo dietro bro Andiamo allo shop Sì andiamo dietro Qua c'è un full team Qua c'è ne ho controllato E io devo rianimare Però vabbè Doveva rianimare Adesso Possiamo prendere la piastra E lo affanculo Minchia Non c'ho sensore Mi c'ho le falle C'è gente là Io direi invece di prendere Prima l'off out E subito dopo Tanto 4 mila Li facciamo subito Anzi 2 mila e cimi Perché se incocciamo Gente a full team Con le armi Siamo fregati Questo non ci volevo Ah tu già sei sceso Ok Ho una piccola copertura da su E' una cassa di munizioni Alla mia Oh Mi fa prendere le armi Colpi di cecco Eh A me te direbbero Piazza Tieni 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 Tenete 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 Colpi di cecco Mi salvio Oh Safe 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 Piazza Piazza bro Ok E mi senti No Dai Dai Tranquilla Tranquilla Dai Abbiamo una macchina Però non credo Non dovrebbe essere veloce Questa Minchia sei veloce Guarda dove è lontana Mi siedo qui Ma non è il passeggero Mi servono piastre Mi servono piastre Mi servono piastre Sto pensando Sto pensando Io direi di salire Non ti allarghi Non ti allarghi Qua Cazzo Cazzo Tu la sinistra Non ti allargare Non ti allargare Minchia di ciotti Non ti affre Cambia posto Cambia posto Cambia posto Eh Come si fa Ok Che preghi E' terribile Da vedere Questa cosa Non ci passo No Lascio Lascio Due e tre piastre Alessandro Ha problemi Non mi ceneva Ho lasciato Tre piastre Le avete prese? Sì Ha lanciato Ha lanciato Nite Qua davanti Mi sa No 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 scherziamo E' un affare Una porta rossa Abbiamo un'altra macchina Se vi interessa La prendiamo Lo so Fate voi Io direi di salircene Tipo Io sto crossando Anzi io direi di andare a prendere qualche tetto alto Magari prendiamo un elicottero Se c'è Sto crossando Così Togliere le persone Con le palle Dell'helicottero Dove? Ping 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 Si si li vedo Si so spesso Preso una volta Si ho provato a prenderla in testa Si è spostato Quando è shottato Ti avevo in gire Dai 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 Quello siamo Oh mi sparano Non so da dove però E' quella direzione Super giù Ma non so più o meno quanto lontano Minchia addirittura Tutto può va Minchia A tre giorni non ci hanno sparato da una posizione Ne Non so di munizioni Me la prendo Non si sa mai Sono in mitra Ora sono in munizioni L'emico in discesa nell'aria Mi ha dato l'emico in discesa nell'aria Ma non vedo un cazzo Thank you C'è una cassa susa In interesse Odo ma quando Cristo ci si è arrivato Alla sotto Cecchino da dove sempre Non lo so Non lo so Non mi ha preso Di nuovo Mi pare perso dietro Comunque Attento che c'è il cecchino Alla Possiamo andare Secchino Tutto trallutato Ma ormai è difficile trovare robe non lutate O abbattiamo un elicottero Sì vai vai O spreghiamo munizioni Ho una cassa di munizioni Vorrebbe trovare un javelin tipo 4R No no Ho una cassa di munizioni Non è questo il problema E che è lontano Minchia guarda dove ragazzi sta Eh su sto stat Era qua sopra prima Ho provato un po' i soldi Sì ok arriva 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 Che cattiveri Quel povero sta facendo solo il suo lavoro Ok Eh mi sa che va lontano La cassa di munizioni lasciata La metto a terra A te servono carlo No vai tra vai tra vai tra Se l'hai già lasciata No No se boh 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 arrivo Arrivo Ungheria ci dovrebbe Svare ad esponare Siamo prendendo la macchina E vediamo se ci arriviamo Macchina dito in noi Sì sta venendo chissà verso di voi no se ne sta andando per i cazzi suoi nella strada ma non mi sa che non ci arriviamo corri corri deja vu ci arriviamo scena deja vu anche io posso chiedere io se non ci arriviamo normalmente com'è e gesù se troviamo uno con il come si chiama oh abbiamo 100 ecco una terra dovete farvi quello da sopra dovete farvi chi? Alessandro se lo deve fare Alessandro è morto Gesù bambino dai però allora io non capivo perchè non mi compariva più sulla mappa quindi io sapevo che ero il lanciarazzi ma qui c'è ancora non capivo perchè non mi compariva non mi compariva più sulla mappa gli ha battuto con il lanciarazzi no a me no cioè dopo dopo che sono sceso dei medicinali a sinistra a sinistra sono pronto con il minchia vuoi morire mamma mia era assordito minchia non è meno male è è tecnica semmosi con te hai due casse qua sai che è l'unica ma ti vedo bugato chi ha man versus army ma appunto si ma non mi spunta il teschio come no a me si vabbè comunque ti spunta che sta osservando almeno a me si no no questo mi sfungi ma che è pure la masca smaccia questa è la porta non so wow eccolo dai ma è una figa dietro l'altra mamma mia che due palle minaccia due minaccia due eh lo so che minaccia due cosa si è buono la difendere qua nooo ahahahah ignorantissimo passi gippi gippi ragazzi silenzio 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 ma la safe eh lo so perfetto e questi hanno preso la taglia anziché avvicinarsi sono allontanati beh tu non puoi capire carlo quante volte ha vinto con questa cosa di mettere la torretta forse il ram è più veloce però a livello di movimento quindi potevano mettere altri due caricatori la taglia non credo no no c'è quello con la macchina sulla strada principale però vabbè ormai è andata a fanculo quello si sta andando in colonia c'erano sparare dove stanno sparare non sentire niente questo minchia è sattato a bomba c'è che stronzo dove si è messo guarda che questo è messo benissimo guardalo a meno che non lo buscino tipo quattro passagno chi restò uno dei però io no non ti capita subito ma vaffanculo però che sfiga non voglio prendere l'ultima cassa non voglio prendere chi resta? se trovi l'altro i mille potevi rianimare due eh lo so però vi stavate cazzo la taglia minaccia due devi dire dove devo andare ok abbiamo i mille per rianimare l'altro però è un problema vieni giù vieni giù bro tieni i soldi a me dai tu ok ti è arrivato il primo corri corri contro finito so dove ah minchia io dal lato opposto sono verso li vedo li vedo li vedo cazzo se li vedo non armi sono sopra allo stadio eh ah cazzo minchia non l'avevo capito ah da test minchia se spara cazzo questo questo c'è uno con la macchina a sinistra prendendo soldi eh io ho preso il load out cazzo io armi di merda poi nel load out devo fare meglio servirebbe un gol c'è un full team davanti c'è un full team da me dietro di me ah tu dove sei cazzo eh sei fuori safe cazzo lo so lo so vai tranquillo aiii c'è un full team a destra c'è un full team pure a sinistra darà uno e l'hanno confermato ok no forse si è ritirato no no l'hanno confermato ma che cazzo da noi da noi con lancerazzi arrivo volete con razze? eh si se ci sono volete ho detto a monete se volete tieni 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 ah va c'è gente dentro mezzo al campo oh da 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 sopra il tetto grande questo tetto grande bisogna allargare a destra raga a destra a destra vado a destra entra dentro il primo palazzo che trovi in safe mi sono colpi di cieco colpi di cieco colpi di cieco eh niente tieni tieni e se ne hai qualcuno leggero mi mi colpi leggeri colpi leggeri colpi leggeri vai grazie grazie anche un caricatore forse andava bene quanto ne hai carlo? ne ho 90 p45 colpi di p45 io pure dai prendili prendili sensorizzo? prova a sbirciare c'è gente a destra c'è gente a destra c'è gente a qua dietro no è dentro non so dove è raga è dentro la porta mi ha fatto male qua uno che cazzo è successo? c4 di merda ma vai col mitraglione un po' di merda ma vai togliti 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 eh si doppio c4 ci ha lanciato ragazzi ha lanciato doppio c4 eh ho visto ho visto la visione morta porca puttana che schifo che schifo l'ha brutto ma ci si è venuto col c4 a me pure io già ero pronta a pusharlo minchia mi sono arrivati due panette e il c4 ma io non ci ho capito un cazzo appena sono arrivati il c4 lo stavo pushando come un pazzo minchia ero pronto anche io ero pronto a pusharlo mi sono andato addosso ma non ci sono neanche arrivato mi sono chiusi quelle due panette aspetta che mando la richiesta sai perché non me la da compai in team vai sul vai sul vai sul party compa vai eh si triangolo parti e gliela invia ho fatto io ho fatto io ok arrivate vai ok ciao ragazzi ci siamo in giro ciao 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 ah ex son dannato non è vero supremo leader guardia non è democrazia guardia non è democrazia guardia non è democrazia io viaggio con sconcinto ma di se con no no fibra ma è che è proprio la fibra quella di che con cento di thing no no ho messo la fibra prima normalmente avevo 100 la fibra con poco la parola ma ora mi arriva a 70 su code pp oh io da quando gli ho messo le gli fps al massimo a 60 non mi sta tirando più tantissime laggate ogni tanto però la non penso posso farci niente ma sarebbe da di installare il gioco e rinstallarlo ma per cosa? si entra in azione e ti diminuisce il ping ah si mi da 70 80 90 ma io sto uccidendo le persone con l'elicoltio schiaccia tutti schiaccia tutti bellissimo ma è bellissimo mi hanno colpito è stupendo compa ma io voglio giocare per sempre solo così la cosa più bella del gioco ha scoperto l'elicoltio ma proprio i falci esplodono troppo splatter stupendo ma è solo warzone no io gli ho levato gli ho levato il sangue perchè? che ne so magari gli piace meglio il gioco perchè non gli piacciono le cose non gli piacciono le cose violente a toto o magari ti fa confondere il sangue tipo per mirare che ne so io voglio progetto della striker che spara rosso ma non è ancora uscita cosa? la striker che spara rosso ah eh si c'è là c'è là mio scugino in garage che ha dato l'amico della medica che ragazzi ci ha fatto un singolo eh ma perchè sono sempre io il capo squadra no dove andiamo? io qua la vedo bene ho marcato dell'equipaggiamento ho marcato dell'equipaggiamento serve a te eh oh testo? testo? tetto? tetto? il movimento giratevi raga giratevi vaffanculo c'è gente si ha detto si era in discesa però non so ma ce l'ha rubata ragazzi c'è gente dentro veramente prendete in giro balestra sta mito la palestra io con un colpo con un colpo almeno sciolta è la palestra con un colpo? che colpi usa? con un colpo i darti che colpi occhio occhio c'è gente mi sa perchè trovo sempre il falla cazzo se tu non mi fai cacare in mano oggi è da me oh sei su faccio il giro aperto la porta io ho aperto la porta bravo però non so dove stanno ho fatto uno però le altre cazzo da dove? gli manca un colpo c'ho una pistola mi ha lasciato one ah c'è un altro qua c'è un altro uno dietro uno dietro pure uno dietro è un altro che sta entrando pure si vabbè ciao mi dovevo fare a questo mi dovevo fare male hai dei distinti sessuali strani hai distinti sessuali strani ti vuoi fare questo ti vuoi fare quello che non sento niente eh raga ne ho fatto uno però eh l'ho finito anche eh se riuscivo a farmi mara forse avevo una possibilità e me l'ho fatta mara ah l'ho finita l'ho lasciata one ma ci credi che con un colpo che avevo dalla balestra l'ucciso con un colpo c'ho ancora il fumogeno davanti non ti vedo non ti vedo non ti vedo non lo vedo tua destra tua destra nel suo spawn il suo spawn va a sinistra va a sinistra sempre tua destra tua destra sinistra centro sinistra centro tutto tua destra non lo vedo ok ti dietro bravo mappanculo ti riportiamo a casa eh ti pusha a dentro chi ne è male ho rischiato ho rischiato tantissimo sono stato fondamentale vado all'obiettivo che sono tazzia va vai bravo scemo ok ok cassa di scudi scendendo che solo la palestra eh ce l'ha fatta gazzo nessun'altra arma la pistola nessun'altra arma solo la palestra ma pusciata addosso ho tirato un colpo di palestra uno c'è gente col camion verso S no movimento io ho cassa di scudi buono scusa usarla c'è gente la gente la era col camion scappato sicuro ma ti è animato tu ah no è la missione che io arrivo a rio ho paura di là mi sposto tento sparare infatti sono quelli di prima andiamo a restare li animiamo si si ma abbiamo la safe attaccato al culo dobbiamo andare avanti l'hai visto? lo shop è questo o è questo? eh se per forza esistano per kill prende quella cazzicata mi da fastidio la pole è sopra è sopra sto andando? sto andando sopra no non è sopra sta là sotto vabbè dai che bug mamma mia la safe però la siete a sicuro abbiamo 100 qua ma il king? si si il king sto andando a poco qualche scudo ma quanti soldi ho trovato nolle arrivo andando questo qua? il titolo è marcato si si il più vicino allora sono 7 4 però non possiamo dobbiamo restare lo diamo e prendiamo forse lo d'auto a poco eh bro mi manca una cassa non so dov'è lo è spreda ok c'è che lottare con la casa bro a fuoco divietà tutto lo resto soldi 500 cassa e altri soldi lo dobbiamo prendere ora vai lo prendi lo portiamo o lo tiro vai te lo prese la cassa ah l'hai presa tu buona 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 tiro dove cazzo lo tiro qua no non ce la facciamo bro devi arrivare si però la vai in safe e lo tiro lontano lo prendiamo strada facendo come vuoi bro vai c'è uno con la ho un nemico arriva un lancio d'equipaggiamento ti pusciano eh attenzione bombardamento di precisione all'altro mi arrivo c'è un altro dietro però non dovevi bro cazzo ho tirato uno eh quanto cazzo è veloce eh mi ha fatto mi ha fatto t'ha fatto ma safe ha stordito ancora non so dov'è sopra sopra cazzo dove cazzo è cazzo ho solo sta pistolina di merda prendi il mio loadout bro eh si è quando non ce la fa non ce la fa stanno busciando in due vaffanculo oh ma questo avevo solo quella merda di pistolina ah dio ciò ci hanno sentiti cazzo guarda qua come io a tenerlo loadout eh forse si sì sì perché mai mi ha fatto perdere tempo uno l'ho atterrato io e poi minchia un attimo l'ho tirato di qua di là ho sparato un attimo a quello minchia la safe mi ha mangiato praticamente un attimo un attimo E' un'altra cosa. I granati assordenti, gli acciacanti sono utilissime, porca troia. Io non ho visto più niente, mi ha acciacato, guardo. Nemici di chiesa nell'area operativa. Nemico in discesa nell'area operativa. Fine del riscaldamento, si aprono le danze. Dov'è? Subito prison. Non è sceso nessuno. No, non ci credo, ci credo, ci credo. Cazzo che lobby di merda. Raga. Abbiamo l'aereo poi, eh. Micchia, peggio di peggio. Andiamo là, allora. Eh, abbiamo l'aereo poi. Eh, ma mi sa che qualcuno ci anticipa. Qualcuno arriverà. Un team arriverà. Anticiparci, no. Parano a voi? No. C'è Domenico? Sì, Domenico. Ah, poi ci facciamo carriere da lui che è meglio. Minchia, ora si incazza fortissimo per cose. Minchia, ti già. Manca atterrao ancora. Meglio, meglio. I soldi che entrano. Uno c'è. È alla nostra sinistra. Però sta atterrando là, forse. No, scherzo. Sta scendendo fortissimo da noi. Come cazzo è l'elicottero? Non c'è. Ce n'hai uno proprio in culo, c'è. L'obiettivo principale è farli tutti fuori. Bisogna? All'affanculo, va. Traccato, tuo. Pesso. No. Faceva il giro giro tonno. Cazza di scorte è marcata, recuperiamola. Dove mi sono rubato? L'ho rubato qualcosa. L'elicottero a finistra? C'è l'elicottero? Sì. Adaprendolo? Aspetta, forse dobbiamo quittare. Che l'hanno mangiato, mi sa, sai. Che l'hanno già rubato? È qua, di solito. Cioè, sulla mappa non mi è spuntato completamente, non è spawnato. È qui sopra, di solito. La memoria, ci venivo sempre qua. Non spunta sulla mappa, di solito. Sì, non c'è un cazzo, non c'è un cazzo. Ma vaffanculo, va. Eh, vabbè, prendiamo la macchina, che vi vedi. Eh, a sto punto. Sono un casino, andare... Tu, 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 tu. Che sto cazzo di carro con il mio lineo a cecchino. Che merda. Vieni da destra? Non vedo una mappa da. Sì, ho sentito sparare. Sì, a destra. Ragazzi, ho due potere, Arles. Passare alla prossima area. Eh, mi sta invitando, Domenico. Che fa, qui ti amo? Ma per me va bene. Eh, non lo so, bro. Come vuoi? Dai, dai, dai. Vabbè, dai, così ce la facciamo con lui pure. Allora, ne do me, ne do me. Ciao, ciao, ciao. Quanti cazzo c'è? Dove? Oh, il Marco, no. Vicino, 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 ci sanno. Marco, vicino. No, non mi ricordo. Non mi ricordo. Perdoni. Carlo. Carlo, eh, c'era un qualcosa di... Vicino, vicino. Vicino, vicino. Guarda, guarda che me l'hai detto, non mi ricordo. Minchia, tu sì che sei un genio, cazzo. Mi dicevano che è una memoria elettrica, giusto? Sì. Carlo. Carlo, Carlo. No, Carlo, non caldo. No, caldo. Caldo, il potopanico l'hai detto. Non l'ho detto. Aia. Ho imparato a giocare, bro. Io, completamente, zero. Mi hanno un coltello da lancio, mamma mia che palle. Come? Dove me l'hai presente? La farina. Zero, zero. A QD. In attesa dello schieramento. Chiammi la balestra in mano oggi. Sta minchia. E si va al primo posto di balestra. Ma altrimenti non si trovano i colpi, però. Ma sono i colpi pesanti in cecchino sulla palestra. Ah, sì? Non è che abbia troppo senso, però ok. Come siamo alleati? Io voglio ammazzare la Domè. Domè! Ma quello sparò a giochi d'artificio, ma che cazzo? Ma che minchia è? Ma è bellissimo. Ma se mi inviti, ma non entro, perché devi avere il quadro già di quattro. Io pure li sparo, guarda. E' bellissimo, è bellissimo. Che dal lotto si vada questo gioco di fuochi, tipo. Gotti di Capodanno. A Napoli. Allora, c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi noi andiamo a... Volevo volete volete. Volevo, da quanti controlli ci sono all'aeroporso. E' ricarica la seconda, l'altro. L'elicottero segnala battle royale. Sì, a volte c'è, a volte no. Anche qua, a volte c'è, a volte no. Guarda. Cosa? A volte c'è, a volte qua. L'elicottero. Ah, qua c'è l'elicottero. Sì, piccio, voglio falciare le persone. E' troppo bella. Anche qua, però qua ci sarà gente. Come non ho detto. A voi con l'elicottero le dovete fare, se lo scelta. Boh, non lo so, ci spostiamo. Niente, niente. No, si falcia la gente. Prima, per prendere l'elicottero, ma non c'era. Ma, e quindi dove stiamo andando? Al punto viola? Dal, ehm, dalla lente. Ah, ok. Sì, quanta voglia di sparare. Guarda, 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 guarda. A uno lo prendo, dai. Così, tanto per... Tanto per compregli il cazzo. Altra gente sta scendendo. Si sono incazzati. C'è un altro team là. Qua stanno scendendo, ragazzi, ma bassissimi. Ma dobbiamo andare lì? Affermati prima, bro. Mi muovo. Allora, ce l'avevano di mezzo, dottor. Ma andai a parte, Adan. Vedo un movimento. Qua stai, qua, cazzo, c'è. L'obiettivo principale è farli tutti fuori. Sì, due... Una squadra c'è, vincere. C'è due team, c'è due team, c'è due team, c'è due team, c'è due team alla tua destra. Nel palazzo, nel Pindberda. Bensaglio è marcato. C'è due team? Ma che cazzo spada sta di l'igolo? Falle è l'igolo. Allora! Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo pushare piano piano... Prova a fare quello in strada. È entrato dentro. Mi pushano, mi pushano. Dietro, Carlo, dietro, Carlo. Lo so, lo so. No, no, un angolo di tiro di... È un cazzo. Ma dai! Ma non ci credo, non ci credo. Ma che mortale! Ne stanno venendo ancora, picciotti. Minchia, a coltellate t'ha preso quello, cazzo. Porca trada dietro. Minchia, quello là sopra! Ma vaff... Guarda, un pezzo di merda con la... Con la... Vaffanculo con la pistolina. Sì, non va mai che lei ne quattro qualcosa di questo. Ma c'è un po' di tiro al bersaglio. Mentre aspetta... Ma c'è un po' di tiro al bersaglio, mentre aspetta... Ma c'è un po' di tiro al bersaglio. Ma c'è un po' di tiro al bersaglio, mentre aspetta... Tutta... Al centro è andato. Proprio al centro. È andato a destra, a destra? Nel tuo spawn? Ok. Dai! Quante neanche ci sono? Ok, se andiamo, Carlo, andiamo tutto qua. Tu ti occorri? Eh, quello, sì. Ok, ok, ok. Ah, ma già cambia il solde. Ok, venite conto che mi ha fatto con i pugni. Non. E' un giro in merito, cazzo. Gli ho pushato addosso e l'ha fatto col pugno. Sì, io c'avevo quello da super tetto che mi sparava mentre cercavo di uccidere qualcuno. Io... C'è lancia granate. Datelo a me il lancia granate. Le migliori kill della vita. Mi solleverò il mondo. Mamma mia. Troppo bella come Aro. E' ignorantissima. Forte. Paramente malo. Compa, lancia granate è come giocare barn. Ti rendi conto. Quando c'è Wavie in volo vuol dire che sono molto vicini, eh? Sì, sì. Yes. E ci vedono a un. Non abbiamo fantasma, eh? Beh, sì, non abbiamo fantasma, eh? Oh, nessuno. Maschera. Oh! Io, io. Che ho sparato? Sono io. Il primo passo. Che non è l'ultimo. Ricordiamoci di direttore a Marcello. Grazie, Dome. Tu sì, casi Cristiano. Il primo passo. Abbiamo, avevamo 10.000, abbiamo shoppato tutto e poi, ah, Marcello dovevamo avversare. Sì, sì, sì. Tutto chissà. Sei pusha, non so lì, eh? Io sono da giù, no? Dal mio primo ping, dal primo ping, bro. Non li vedo? Me li puoi ripingare se riesci. Ecco, è qui. Mamma mia. Oh, da me li sento. Può servirmi. L'ho distrutto uno, non ci vedo, mi ha flashato. Se c'è del 2 che ci va, se c'è del 2 sono troppo ricardo. Devo ricaricare? Sì, sì, sì. Un team pieno, molto pieno. C'è 4. Molto pieno. Ho visto delle esplosioni di guarnese. Sto facendo il giro da dietro, se ti esco. Sopra. Uno sopra. Non vede un cazzo, non vede. Sono in due sopra, eh? Uno è carcatto, eh? Mi pushano, bro, mi pushano. Da me, da me uno. Mi ho distrutto, ma... Fatti tre. Ho uno, ma ho fatto a pugni. L'ultimo qua. L'ultimo, l'ultimo. Mamma mia. Colpi di piccolo canipro, qui. Manca l'ultimo. Eh, mamma mia. Eh, vai, mica, gli sono andato da dietro, gli ho tirato una granata, è successo il bordello. Io ci stavo andando di lancia granata. Sì, sì, piccio male. Ok, avete tre le darvi animali. Ah, ma siete morti quasi tutti. Allora, l'ultimo, ma che era ritardo. Ma, te l'ho detto che ci deve carriare domenica. Convinti che eravate tutti vivi, tipo, vabbè, ora lì. Ah, se fate mi scegliere un'arma, questa è fatta. No, no, questa con laser fisso non so se è buona. Ok, allora questa. No, la ciappella col VLK, qua. No. Cazzo, vabbè, dai, vado a rilassare, ok? Nel dubbio. Ma tu ti puoi restare tranquillamente. Però che c'è gente vicino, eh, c'è gente vicino. Perché vedi tutti? Sulla tua sinistra c'è gente. Possiamo prendere lo doubt. No, eh, hanno tirato un attacco aereo vicino in te. Dai, domè, la cd eslambo. Lo doubt ci viene, no? Ma dobbiamo andare allo doubt o alla casa con le armi? Raga, prendiamo la casa con le armi, poi andiamo allo doubt. Ok. 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 Che c'è, che c'uccia. Uccile d'assalto trovato. Occiciando le armi. Qui c'è un lanciatore. Ah, ok. C'è un portiere. MP7. C'è un card qua. Uccile di prevenzione qui. Hai razzi di mezzo. Eeeh, zero. Zero. No, minchia, oh. Zero. Mi chiam tutto due burdelle o zero. E' qua? Oh, quanto fa questo? Ma dopo? Ma ce ne sarà un altro, ha atterrato, abiti, ha atterrato. Ma è diventato viola, raga. È la grava. Viola, io ho sparato io col bravo. Allora io col figlio. Hai macchina, hai macchina, hai macchina. Se ne fugge. Eh, sì. Ma io lo ammazzo. Ma che c'è chi non è, dove cazzo è la macchina? Non si vede. Ma il mincio è veloce. Dove? Scendiamo. Scendiamo. Scendiamo a prendere il fantasma. No, 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 andiamo, andiamo. Oh, mica, da sotto. Scusa di cercata, no, dobbiamo andare. Andiamo a schiere. È sotto? È sotto. Se è sotto è buona. Dai, 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 mica, questo... Rimane sotto? Sta salendo. Sta salendo? Ah. Vabbè, io lo vediamo quando da fuori. Guarda che lo pingo, piccio. Zitti, zitti, voglio vedere quanti sono. Ti ridullo, eh, ti ridullo. Quello che è scappato, quello che è scappato. Sì, è tu, eh. Raga, io vado... Vado... Da fuori. È sopra, è sopra, è sopra, è sotto il tetto. Sta scendendo da dietro, piccio. Mi sono distratto un attimo, cazzo lo vissano l'ultimo. La macchina prende. Oh, ok, ma ci forse viene da te. Se è buttato, se è buttato, è dietro il sotto di voi. Cazzo, è qua. No, l'ho distratto. No, non l'ho presa. Mi sono distratto con quel cazzo di esata che di merda. Veicolo distrutto. Veicolo distrutto, vai, grazie. L'ho creccato? L'ho creccato? No, però io ho fatto male. Come cazzo? Occhio, c'era un atto che mi spara, piccione. Ha vissato un drone. Allora, lui l'ho fatto ed è molto subito. L'altro dietro, l'altro dietro. Un'altra squadra, quella, piccione. Però qualcuno mi dì anima? Porca... Uno l'ho buttato a terra. Cazzo. Terra, uno. Dai, però, che cazzo. Tagli ti prende, forse. Ma ti ne mancano? No, uno ha ferrato, io. È afferrato, però, dove? Erano là dietro la casetta. Piaccio, un gecchino col termico. È lento da muovere. L'ho raggiato il fumogeno qua? Stava cazzo! Due, due, due! Uncchia. Qua? Quarto, uno, sono in tre? Bravo. Ah, una fatta da sinistra, l'ho fatto. Uno ha finito. Occhio, tutto cazzo qua. Da sinistra, via. Sono in due, sono in due. Questo ha persato, chiaro. No, devo ricaricare. Cazzo! Vaffanculo, l'arma scarica. Buona, dai. Ma quanti erano, raga? Quanti cazzo erano? Una squadra, era un squadra. Ma impossibile. Non era una squadra. Tre erano, tre. Ai 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 ai, nel mio corpo, nel mio tempo. Voi ne avete abbattuto qualcuno? Io uno. Io pure uno. E io? E ne sono sfruttati altri due. Ah, altri due. No, erano tre. Quindi erano un astro team, raga. Io erano due, infatti, te l'ho detto, due team erano. Due team, sì. Faceva parte, quello là era singolo. Che aveva il grauscavo, lì, con lo suo mangiato. Ben, niente, che non te la pigliamo. Vabbè. Comunque, in base a metàzione, la prima cosa, non te lo consiglio, anche. Eh, ok. Non ci si raffredda sul distante. Ti so qui che vuoi senta me treguage. Sono stanta. Vabbè, no, mi sono salito. si mette una vaschetta si mette una vaschetta si mette una vaschetta si mette l'aria a camera poi lo tubo che c'entra? chi deve condensare? quali tubo hai? il tubo di chi? le condense o? bravo minchia bravo nel cervello soltanto la roma il mio cuore batte per te non muoveremo no 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 moving mi devo modificare troppo molte classi personali ma che cazzo ma che cazzo no è morto che è successo? che sono un bug sei tu ah ma adesso hai attivato malloppo eh che cazzo? malloppo? e poco fa pure malloppo doveva messo loppo eh infatti come se non sarà quando lo sbloccò l'italiano? che le ho viste sbloccate eh dipende tipo prima secondo elementare eh affanculo guarda dai i lagunari dove l'ho perso ma cosa vuoi? lagunari con la skin lagunari primo di meропa non lo dice non lo trovo workeltario eh nel 25 era sbloccata ora me lo metto lagunale livello 42 in metà domenico in metà domenico riscaldatevi per bene tra poco si entra in azione scusa ma domenico ci sono troppi domenico domenico tappo tappo a re ok no uno si è rubato il mio elicottero give me elicotter beh ma ci sono le akimbo ma io voglio le g18 akimbo perchè non mi danno le g18 akimbo perchè non mi danno le g18 akimbo la che arma è no no il ram la seconda la seconda volta che responi no io quando ho risponato la prima no la prima la prima non era era molto più piccola come arma la prima che sembrava un assalto si quella lì è un mitraglione no c'è 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 marco il smettete oh 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 si lo so mi spara Ah, adesso non ti spara più, ti ha mollato, ti ha mollato Prendo la taglia, la via, 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 la via Sì, sei solo da ora Ah, la prendo subito, oltre con voi Vai, la realizzi la sogna Magari ce la fanno Ma non è scelto il suono, vengono principale e farli tutti fuori Ma la minchia di arma si può trovare Ho figato un mp7 in blu, meglio di qua, no? C'ho un mp7 in blu, meglio di qua, no? C'ho un mp7 in blu, meglio di qua, no? Ho trovato, ho trovato quella via Vabbè, te lo scudo, io l'ho mp7 Io ho una torre scudo Te lo scudo Ma l'ho mai stata nessuno? Hai dunno? Sì No, vabbè, vintendo di qualcuno che... Vabbacuno Bastardo Mia mamma dice che sono bravo a giocare L'ha uccito sempre, sì L'ha uccito sempre L'ha batto sempre Giochi a conto con tua mamma? Ovviamente Sennò come faccio ad essere quello forte della situazione? Devo tirarmi un po' sull'autostima, capito? Ok Ok Perché non puoi darlo ma acceso? Sì Ma allora... Andiamo alla taglia? La taglia sta facendo missione Andiamo, dai Allora che arriviamo... Mi sa che finisce... Scade No, no... Sapendo verso di noi, mi sa No... Si sta allontanando... Ok Ce la facciamo a prendere il loadout? Si ce la facciamo... Prendiamo il loadout e poi la taglia ci andiamo... No, è da... Tanto... E' scarato uno? Ma che palla è la mia vita! Grrrrrrrrrr Uno craccato... Un altro sul tetto... Ehhh... Uno sotto l'ho craccato... Oh, tutti e' la... Sotto l'ho craccato... Oh, tutti e' la... Sotto l'ho craccato... un'altra scontro il corso 2 a terra 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 scusi se no non posso arrivare nè non posso eh io la terra di gioco eh io la terra di gioco uuuh è sulla torre e sono 4 non l'ho fatto no uno mi ha fatto al giro uno mi ha fatto al giro da giù vediamo sforzati call 2 a 2 no mi ha tagliato ho tagliato sulla torre mi ha tagliato call fallo fuori ho tagliato sulla torre io ne ho finito uno sono in 3 a terra vai via 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 si stanno faietando con altri mi sparavano a terra ma allora compro gli scudio piccio abbiamo ricercato sabrino da noi io che sparo mi devo cercare un'arma oh uno qua terra 1 a terra 1 ma che cazzo andiamo aspettando? eh la torretta ma vedi che c'è c'hai due soldi due soldi qua qui ci sono top compagno ritornai in azione attendi ancora gente c'è la? qui c'è ricercato ah non c'è lontanato nè oh oh cazzo craccato mi faccio saltare io cerco un'arma craccato ancora mi ha distrutto il cazzo qua mi ha distrutto il cazzo interessante che non ho medico guarda davvero piattato quanto sono scarto di città arriva tutto il team da dietro? dai prendete sto camion uno dietro uno dietro segnalo un bersaglio ogni due è stato uno ma è pieno raga la palancata di merda si sono sono tutti dietro la la cosa dei pompieri colpito sinistra a sinistra a sinistra craccati due a terra due devo confermarmi non ce la faccio padonna uno sul tetto ce n'è uno sul tetto un altro a terra l'avevo arrestato e l'ho riatterrato cazzo uno l'ho finito bro uno l'ho finito uno l'ho finito dietro sottolinea ultimo vice è impazzito che vedeste? sono indeciso sono ancora due è qua fuori sono no mi sa che si sono chiusi dentro un altro un altro un altro dove? l'hai fatto l'altro l'ho fatto solo due dietro l'altro era bro è entrato dentro e sul tetto l'ho finito l'ho finito l'ho finito sopra occhio è saltato forse o no? ah ma da dove? ma che cazzo? cazzo ti mi ha nientato ok? oh dietro dietro mi sparò da dietro mi sparò da dietro lontano da dietro dietro dove? c'era più bravo di me sotto di voi sotto di voi sotto di voi qua 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 da me qua qua lo spara spara un altro team un altro team raga ok porca troia sta pushando un altro team l'avete sotto segniamo carlo segniamo che dici no no sotto sotto c'è gente allargati a destra eh ti trovi? ok vi spara da dietro questo già qua già sbottò di un altro torna piscina torna piscina ti arrivo? si è già arrivato no è fuori carlo 1 è qua fuori in movimento occhio carlo ti lascialo perdere ti lascialo perdere però ti lascialo perdere vieni verso i macchini non ho colpi si aspetta che sto arrivando io ce l'ho adesso te ne lascio un po' madonna ah eh l'M3 dice ah la mia no minchia ti lascio sul tetto il mio hanno fatto male dietro è il mitraglione verde sei più preciso tieni 2 scudi bro vieni comprali a volo comprali a volo compra comprate comprate anzi se comprate se gli dai soldi se ne compro la strasecca ho visto gente dietro di voi Verso qua È andata a sinistra Ho visto un movimento a sinistra Andiamocene brova Che ci lasciamo al pacco Io c'ho solo mitraioni Wow Non le ho preso Eh brova eh Eh fatta da Controllate cosa c'è qualche arma intorno Ma tu sta arma dove l'hai rubata Eh c'erano quelli che avevano la classe Io avevo scopato l'arma Mi sembra anche giusto Sarei guadagnato Ho 5 scudi Carlo tu quanti ne hai? 5 Ok Scusate E allora Allora vediamo un po' la situation Volete provare l'aeroporto? Ma quanto cazzi di danno ho fatto Oh cazzi Da dietro mi sembra tutto sparo o la piscina Da tutta mitraioni se va a far Cazzi stiamo andando Ci sono contratti Ci sono cazzi qua Vediamo se possiamo darci molare qualche picciolo Lo sapete come fare il fluo del 2C4 vero? Sì Come? Uno alla volta Uno alla volta Sì sì Con doppio quadrato Ok Eh l'ho scoperto di tanto però Io tempo fa non lo sapevo Due giorni fa Eh io tempo fa non lo sapevo Eh io pure Infatti Infatti Ne avevo due Per farlo scoppiando Esatto Io l'ho appena scoperto Io mi sento tipo Le pesa inter ralph Quello dei simpson Quello completamente cretino Quello mi sento C'è un modo per lanciarlo più lontano Il C4 Oppure Boh Saltando Saltando Verso l'aria No perché se me lo lancia Troppo vicino Forse lo devi tenere Quando lo tieni un po' in mano Che lo prendi con tutte le mani Sopra 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 Occhio a quello E' entrato sul parcheggio E' andato qua All'incirco Ah no Le loro classi hanno Ognuno Si a prendere una cazzo di arma A levatissimo Mitraglione C'era quello sotto al parcheggio Eh Passi sopra No Sai che c'è un senso Ora Ho scelto in difesa In difesa Ok avete il C4 Oh guardalo l'ho visto Sotto di là in fondo E' atterrato E' sceso Si è sceso perciò la Eh ma quello che c'era il parcheggio era lui Ok Oddio Dietro l'ala è Che cazzo è? Mi sei entrato Volevo andare a prendere il contratto Volevo andare a prendere Anch'io volevo prendere il contrattino Eh andateci da No no Savite Andate a destra ora Destra Quale destra? In quale destra? No alzo con me No alzo con me Qua sopra No no alzo con me Alzo è Guarda come dice Che cosa complicate Non potevano spawnare che ha sistemato No alzo con me Ma i saldi quando? Un'età Oh uno lo possiamo restare Io vi direi di restare il più pro Quindi restate me Ma non si è veloce No ma non ti avrei mai restato Grazie per la fiducia Salutatevi l'aereo Fa quello prendere quel cazzo di affare Bravo Un signore Sai Bravo Stai minchia Parcuro E andare ora dove ci sono nemici L'aereo comunque è da lotare No tutti a termine Occhio a destra Occhio a destra Perché dici uno se intendi toto Mi spieghi Sì per illudermi Bravo Mi chiedi so che ho volato i soldi Oh Questa Morto di magnetotera da solo Che cazzo No no era sempre quello Che non era molto bene No perché si muoveva il cadavere Cazzo l'hai chiamato quando l'ho dato guardalo Corso Carpa di un metrilici Sono due Quanti cazzo sono? C'è un cecchino Eh vada a tezzaro Ti la fa prendere È bagato è bagato è bagato Sì si è glicciato nel muro Arriva la safe raga Occhio parlo che sei da solo Come arrivano la safe? Vabbè no ancora un po' di tempo c'è È molto veloce però non ce la fai Ormai vado Sì Ormai vado Sì No è vero Al cos'è ma cos'è Ma a stardi hanno lasciato l'RPG Ragazzi non capisco però se parlate così Ah scusi Al figlio Al figlio la c'era gente Carlo C'è Avevano preso il lord out Compa Stavo prendendo ricercato Sì compa ma non c'è bisogno che ogni volta di cicati Cazzo Corri 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 che sto salendo su ste No Dove sono dove sono? Dove sono Oh Madonna Dì ma come cazzo va a cazzo per lo che ho? Uno ho fatto Uno ho lagerato Uno ho fatto L'ho confermato proprio Hai uno l'ho craccato Sì 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 Eh lo so Mi hanno tirato un bombardamento C'è che questi erano tutti i fantasmi Il problema è che io non ho scudi Minchia devo entrare in te infatti Qua c'è l'ulto Vieni qua che c'è l'ulto Ah cazzo Eh Eh sì l'hanno fatta bene Eh nascondi Ti fallo No ti dobbiamo nascondere Sì No compaile è infattibile Poi mi hanno sparato contemporaneamente Sì No Minchia Si sono organizzati bene Per non uccidersi Una merda Con la pistolina Cazzo Dove venire con te? Eh Qua non credo Non c'è nessuno da me Sì L'hanno fatta Grazie Avanti Io so Ok la safe Carlo Ah se push A quelli non l'avete fatti vero no? No Un cazzo a fermo Volevo andarmi a prendere Lei era pieno di gusti L'ho con l'anger Ok abbiamo gente qua l'anger Ho fatto male Ho fatto male Torni indietro Torni indietro E ci puoi Nel giro da dietro Ma dai Da dietro Eh non lo sapevo Eh non lo immagino Uh Vai C'è l'altro Tanti Tanti Sono tanti Sono tanti La voglio aiutarti Oh ce l'ho davanti Eh non l'ho visto Non l'ho visto Non l'ho visto L'ho visto L'ho visto completamente C'era un'altra Alla mia Un'altra Un'altra ancora Un'altra ancora Un'altra ancora Da me Mamma mia Aiuto, 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 la safe, la safe, la safe Mamma mia, domè Corri, corri No, non lo so, lenta, 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 bro, è lenta Mamma mia, ganculli che fa domè Non stare fuori safe, bro Cos'ho fatto? Scusi, 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 scappa, ma non le munizioni, scusi, cazzo da qui Mi serve un'arma Scappa, domè Non so che cazzo ho preso Un MP5 Possiamo anche arrestarmi No, non ce la fai a arrestarli Sicuro, sicuro Madonna Sicuro, sicuro Vaffanculo È morto, è morto, ne hanno ucciso È morto Gli hai scontato la partita Micchia un colpo per distruggere una partita Gli hai rotto la partita Oh, cazzo, davanti a me Non puoi, non puoi, non puoi Oh, c'è gente Non voglio gli sparare, c'era un altro indietro Dove va? Andiamo verso là, andiamo verso là Anche se là c'era un team C'era il team che ha fatto quello che ha battuto Sono è morto qua Allora sono in due, ragazzo Sono in due, allora Io sono cecchino Sì, ma mai non... Come che non l'hanno verso? Oh, cecchino a destra Cecchino, cecchino Eh, allora è giusto Ah Sì Corri, corri come il vento Corri come il vento Ah Come cazzo ha fatto a shottarti? Non ci voleva Porca puttana Vabbè, nasconditi Eh Ma cosa c'è? Da dove? Ma da dove? Non prendi i soldi Mi serve il tuo cecchino Ah, no, a sé Ah, fai il culo, troia Ti spara per terra Spara dal sotto, ti spara sotto Cazzo Ma da sotto non mi può vedere Mi c'è, ti può mettere i piedi A me da là mi ha confermato Mi c'è, che padre Dai No, vabbè, vabbè Posso che... Posso che di Ma sono due Tre, 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 cacchini La macchina devi prendere, vedo Lo so No, lascia da testi Eh Mi c'ho stavo Sì, vabbè Vado a mangiare, ragazzi Ok Vabbè Ciao Carlo Ciao Carlo Ma ci sono Il messo di un piccolo incognizione aerea Solo Il messo del pappo Ormai sta partita si chiama Carlo Eh, ginocchia Ma tu stai ancora con quel coso per la postura Toto Sì, sì, sì Ma la sei già da copia No, ma mi fanno male, c'è un occhio per altri motini Ah, i pompini, capisco, sì Esatto Esatto Ah, no Laивают Abbuchino Abbuchino C'è stato un popo patch di gelo Comtrese il normale Ciao Comprese il orale Odessa Un pubblico Ma tu perchè non è andata al Apollo ZR? Ma nel fixes O che dicevo in inglese E c'è una Un cocktail di domaggio controllate l'equipaggiamento gli aerei si stanno preparando allo schieramento si moni a moni doma quando facciamo una manciata ok può passare adesso combatteremo per davvero e va a curcare vabbè monica io pure mi faccio l'ultima e poi veremo lo vedi di nuovo io sono il cazzo di caposquadra amaro montenegro sapore vero ma dopo tutto il bordello che ci sta per questa cosa di black lives matter secondo voi l'amaro montenegro deve cambiare nome a voi a te aspetto non esattamente doma è morto mi sa doma è abbandonato tutto doma è sinneva con tutto l'aereo porta ma perché ci sono certi fucili che hanno nomi strani tipo duchessa e a domenico ne lascio in due contro tre mp7 ma adrenalia che serve ti dà una botta per fare cosa sai buoni cosa adrenalia che minchia serve adrenalia ti cura la vita ah quindi non serve ok è tipo una cura universale per tutto stai avendo un infarto adrenalia ti hanno sparato in testa adrenalia funziona take me on quantry road boh pusha checco pusha e ce l'ho pushato parkour si con paioca mi sento in the office sto facendo parkour cazzo ma laggato sono caluto come un deficiente ma perché non ci possiamo prendere queste macchine invece di quelle da merda è più da fico non cazzo non cazzo non cazzo ma un cazzo un asilo ho trovato invece grazie grazie a tutto qui c'è una corazza topa e corazza ma la cazzo è sopra ma la cazzo è sopra ma la cazzo è sopra eh qua serviva la risata di Mastro Emilio per rallegracci la giornata non cazzo è sopra ma la cazzo è sopra ok ma che non è da cazzo si si quella lo zainetto ma quella sono al massimo ah ok ti cambia il numero di colore mamma mia quante cose sto imparando ma dove cazzo è sta minchia di cazzo non lo so mai ah qua hanno lutato chi si sta collegando da me ma come fa a collegare se ormai siamo in partita io lo sarei no come fa a sapirlo come fa a collegarsi da me ne con ne è in partita appunto infatti ah cristiani no tu ne sei 200 metri ah ma tu da no io mammuccio non ci vai solo ma se ci va in compagnia ma ammazza ma mi dica su G eh tutti su G compa che vuol dire ne do me ne vabbè tanto ora a me li pusciamo ma prima è capire un ne so eh si ormai si ne raffanculo io te li ho pingati qua ma si stanno scannando ah stanno andando a prendere lo stronzo andiamo a prendere lo stronzo c'è un attaccaverio che arriva occhio marcione oh caccia ne è uno uno l'ho visto è nel capanno occhio un atterrato ce n'è un altro dietro atterrato grazie no cazzo c'è l'altro no cazzo vabbè dai 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 che c'è peccato minchia due ce li siamo fatti uviri senza do me che rinicciamo a vincere tutti c'è do me eh ma senza do me meglio ci stanno abbiamo battuto tutti senza do me arriva do me e ne ammazzano un ne do me partecipano di do me ho crasciato ah cazzo uviri do me finchè non c'eri tu abbiamo massacrato le persone finchè arrivi tu e ne ammazzalo finchè non c'eri tu abbiamo massacrato tutti arrivasti tu morti bravo complimenti pure io sembravo pro no abbiamo fatto un'azione bellissima perchè io sono entrato e mi sono messo in una angolina mentre quello mi sparava e lui ha fatto quello che mi sparava sono bellissimo bravo vai vai poi ti mando poi ti mando la clip ti lascio vedere è perchè Totò e Nabbo siamo morti ma come si sta ribaltando la situazione come ci si fa come un cretino cavolo chi rende domani ti mando i domani che c'è domani che c'è domani c'è arma nuova 200 giocatori nuova mappa per il multiplayer player ah finalmente finalmente la nuova mappa ormai questa la sapevo a memoria no nuova mappa per il multigiocatore ah non per warzone qua no per warzone no ok e da non se può un cazzo poi c'è poi c'è eh triple esperienza e poi c'è jugger not royal ehhh ah è una cosa apparte quindi si modalità jugger not royal nuovo contratto ma sinceramente di tutto sto bordello mi interessa solo il cecchino nuovo eh poi c'è nuove armi al gulag ehhh 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 mamma ehhh ehhh non lo dice quale armi che cazzo è successo? l'arma nuova è eccettiva no al gulag no no non lo dice c'è scritto ehhh gulag weapon update cioè chiaramente delle armi non c'è una gulag che cazzo è arrivata non c'è un gioco ma non c'è un gioco ma non c'è un gioco non c'è un gioco e di 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 cazzo è un gioco che cazzo è un gioco tutto santo take me oooo caldred oooooooo caldred ooooo caldred Ora andiamo Where do we go Lancio di merda L'angelo di merda Amore, lanciamoci immediatamente Sempre io sono il cazzo di capo squadra A posto, da oggi in poi io sono il capo squadra Fottetemi Io sono il boss Era sempre Domenico con la posquadra Sempre, anche in volta del giorno con lui Eh, perché era che ducchi un nabbo Perché era che ducchi un nabbo, sai Perché c'è ancora qualcuno che gioca ad Apex Eh, sì, lo so Io è un grande esperto di Apex So tutte le cose difficili da arrivare Eh, pensa se invece c'era Carlo Oh, da me Oh, da me Un pugno o un pollice Bellissimo Minchia, io sto busciando come un bacio Ma come stai buscendo a specchio? Io lo sono pensato Minchia non è un cazzo Io c'ho un fall di merda con cui posso uccidere le cose Oh, qua, qua, qua Mi vado da dietro Fatto Grande Oh, ma questa aveva la torreste, piccio Come faceva la torreste? Oh, guarda Dove cazzo è? Sopra il tetto, piccio, sopra il tetto Eeeh, pompieri Sopra il tetto dei pompieri È sceso? Non lo vedo È sceso, è sceso, è andato dietro Vieni, vieni, vieni Vieni verso me, vieni verso me Eh, cazzo Ti sparano da quel tetto, là? Ti sparano a te? Sì, a me hanno sparato da lontano Io c'ho forse un javelin, se non sbaglio Ma non sapevo il cazzo Eeeh, qua, moto Moto È sceso È sceso È dentro, raga Ok, è dentro Sì, sale sopra, questo È qua Uno sotto Atterrato No, no, no Dai, però Che cazzo Dio Ci sono Ma da dove? Da dietro Cazzo, da dietro Poi una cazzo di arma buona, no Timing di merda Gia, fai una pistola Benvenuti nel Gulag Chi sopravvive conquista la libertà Gia, voglio morire con il cicato Gia, fai una pistola Ma siamo tutti in un gulag Così Ma mi sono accaduto tardi che ti sparava dal tetto, dove è? Lo è anche un sasso ben piazzato Sì, ma non è questo che è colpa vostra Appena Sta andando sulla sinistra, Tom È sulla sinistra Sì? Sì, sì, sinistra Ok, perfetto Ho chiaro al tetto Ho detto Minchia, mi affaccio Ho tutto sottocontro Sì, mi trovo Ah Dove sto ridendo abbastanza Vallo fuori o conquista l'obiettivo Ah, mi viste Sì, ma poi puoi annullarlo Ah, fanculo Sì, ma poi lo rimaneva fatto In un momento Dai, in questa attenzione L'acqua L'abbiamo A pagare per farsi Che entrare Se hai Ah, adesso sono rotato Eh, vado a morire subito Prendoglio Ah, proprio quello Oh, no, no, come vuoi Non lo so Ah, fai tu Ah, quello Tu hai vingato a quello Quello che l'ha prego Ah, ce n'è uno Oh, se no, fatti sciacallo, va Ah, tu volevi Prendevo Ah, si poteva fare Ah, tu ti volevi Fale ricercato Hai chiesto l'attenzione No, no, io mi volevo Rammazzare a King Eh, ha chiuso Alla taglia Oh, piccio Un costerlo alla lancio A post A post Nelle mani Del giocatore Più forte Ma buttane tu solo Perché suona Ma non c'è Muzio Ma si fa Forza Dara un'occhiata No, vai Oh, consiglio Prova a giocarla A colpo singolo Sì, la raffica è terribile Cambio 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 Non è buona Risorto 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 Aprendi le rammese Finchia testa Mi ha girato Totto a tale arete Ah, ma ti senti Metti Metti C'è Fred Edita O se le metti Sette a minuto 25 colchi Se ne vanno Come niente A che fare A che finito Vai che arriva A 5.000 Ah, non è Se ti ci metti Buono Ah, ma è veloce Ricarica Va Più lento Vai Se potessi Sì Ok Ok C'è la tolionetta Colcoso Ok 8.300 Ok O perà guarda ci sono uno e due vediamo se trovo qualche altro sficcio almeno rianimo a tutti e due perché chi ti ha detto che voglio essere rianimato 9000 ok qui sei vai ogni tanto vi prendono dei ictus ora trovi il camperone di turno qua ti prego si il coso dell'acqua mi sembrava un nemico come san virginia come san virginia come san virginia come san virginia ha preso non c'è gente ah qua ha lootato elicottero non sono lootato io non si va un lanciolo d'equipaggiamento andiamo a lanciolo è uno solo sta andando forse a prestare lì sta scendendo mi sparo ok ha preso di nuovo il volo perfetto quello che voglio è stato oh un nemico a terra ti è magnetato grande minchia io ho detto no ma voi eravate troppo lontani per essere mi piaceva quello che correva peato tipo tre quanti qua dentro totò i mici dell'area almeno due sono mi sa si ce n'è uno sopra cazzo no ma l'ha laserato l'ho laserato pure io però a uno sono due uno ho fatto ok manca l'ultimo da me da me da me qua mi è venuta a combattere dai 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 ok tranquillo 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 erano qua porca troia dai ricarica 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 e dai cazzo e dai per il mitraiglione di mezza erano schiacciati ma pareggianemo i toti eh l'aspettavo da giù me l'aspettavo a quel sol eh il mitraiglione è brutta come cosa tre ore per i casi cavi dio u vabbè la di sac vabbè la di sac io me ne ando che tra un pò ci si ciba Amo nido me Staccano Porca troia che caldo